Quartini? Sì, grazie Presidente. Mi ha un po' sollecitato sul principio di cautela e di prudenza Giannarelli, è colpa sua se faccio questo intervento. Ne approfitto, ora sta uscendo l'assessore Saccardi, un po' mi dispiace. No, non per richiamarla, ma ne approfittavo anche della tua presenza, che mi sembra invece importante rispetto a quello che volevo dire, sia rispetto al concetto di prudenza e cautela, condivido quanto ha detto Fattori, quindi non entro in merito all'aspetto energetico e a quello che naturalmente... Diciamo, abbiamo un'area, la Miata e l'area di Larderello, che effettivamente non in maniera univoca, quindi in maniera ancora da valutare in maniera più attenta, Comunque ci sarebbe un eccesso di mortalità per una serie di patologie tumorali, legate probabilmente alla fuoriuscita d'ammoniaca, al fatto che ci sono falde acquifere che possono essere inquinate, anche in ottica geotermica e secondo alcuni anche nell'ambito della geotermia a bassa entalpia. Quindi chiaramente il principio di cautela ci dovrebbe suggerire, come dire, di approfondire meglio e di sentire anche la fonte di questi studi scientifici che ci raccontano anche di questi elementi. Per esempio sulla Miata c'era uno studio promosso da Medicina Democratica e che ce l'hanno fatto vedere al convegno che abbiamo organizzato qui sull'amianto e la geotermia 15 giorni fa, che mostrava un 12% di mortalità, di eccesso di mortalità, nell'area ammiatina. C'era un geologo che ha raccontato anche del rischio sismico incrementato anche sulla bassa entalpia. Perché mi interessava, come dire, la presenza dell'assessore? Mi interessava perché ormai da una decina d'anni le attività epidemiologiche della regione toscana lavorano molto a rilento. Il più delle volte viene invocata la carenza di personale nelle strutture che si dovrebbero occupare di epidemiologia. Per esempio noi abbiamo richiesto con i nostri consiglieri comunali referti epidemiologici dei comuni per capire l'impatto delle patologie all'interno delle micro aree e non riescono a fornirceli. Eppure il referto epidemiologico sarebbe una cosa ottima. C'era un ottimo registro tumori all'ISPO, giusto appunto, al CSPO. Abbiamo avuto probabilmente la più brava epidemiologa d'Italia, che era Eva Buiatti e che aveva messo insieme un ottimo lavoro da un punto di vista epidemiologico sia in termini di registro tumori sia in termini di registro di mortalità regionale con la possibilità di geolocalizzare anche gli eccessi di rischio. Ecco, questa carenza di attività epidemiologica noi rischiamo di pagarla carissimo. Perché rischiamo di fare interventi senza avere una base solida per definire le politiche sanitarie. Ma in questo caso anche le politiche energetiche. L'inceneritore, tra Scarlino, tra Case Passerini, come si valuta l'impatto che avrà sulla popolazione? Noi si suppone per prudenza e in termini cautelativi di non costruirli, gli inceneritori. Ma se non abbiamo i dati per poterne valutare l'impatto, si rischia di fare un lavoro, come dire, diciamo da dilettanti, per non dire peggio. Questo è un pochino il rischio. Noi abbiamo una carenza di attività epidemiologica. E si va avanti, magari anche giustamente in termini di contenuto, ma poi diventa un rischio propagandistico parlare solo di vaccino dell'HPV a livello di strutture epidemiologiche che lavorano da questo punto di vista in termini ridotti. Spero, ne parleremo anche poi in commissione terza, quando verrà Francesco Cipriani, dell'Ars, che comunque gli abbiamo fatto anche richiesta come commissione, di vedere se si poteva realizzare il progetto referto epidemiologico a livello centralizzato, invece che a livello di periferia. Quindi potrebbe essere un progetto interessante. Io credo che se si parte con queste considerazioni, credo si possa fare su molte cose, anche delle cose buone. Se invece non si fa questo tipo di attività, si corre il rischio, l'ho detto, di essere un po' dilettanti anche della politica.